Con quale convinzione non stai dicendo nulla? Scrive Alessandro Di Lorenzo Grazie mille per il tempo prima di tutto che hai dedicato al nostro contenuto È grazie a commenti di questo tipo che mi rendo conto quanto ci sia bisogno di condividere questo tipo di conoscenze It is exactly thanks to comments like this one that I realized the need to share the kind of content that I enjoy creating the most So with today's vlog entry I'm going to answer to Alessandro Attraverso l'ingresso odierno del vlog mi divertirò nel rispondere ad Alessandro, al commento di Alessandro Quando ho letto questo commento ho detto blim ma cosa ho detto in questo frangente? Allora sono andato a riascoltarmi perché comincio sempre col mettere prima di tutto in discussione me stesso Esattamente quello che penso Alessandro non abbia fatto in questa circostanza As soon as I read this comment I immediately thought What did I say in this part of the vlog? In this part of the previous video? Or whatever this clip was from? And I went back to listen to that clip And I didn't say anything wrong or I didn't say without I think I conveyed the message well enough At least it was in Italian so I was certain I conveyed the message correctly Because I always start by questioning myself first Which is something that I think Alessandro didn't do in this particular scenario Quindi questa potrebbe essere la prima lezione appresa attraverso questa esperienza Partiamo sempre col mettere in discussione noi stessi Le nostre conoscenze So this could be a good lesson to get out of this interaction, this experience You know, we could always start by questioning ourselves first And our knowledge Sì, perché penso fosse Socrate che disse che L'unica conoscenza che abbiamo è il sapere che non sappiamo niente Sì, perché come Socrates, I think, ha detto The only thing that I know is that I don't know anything So let's start by questioning ourselves first Quindi cominciamo col mettere in dubbio noi stessi Prima di giudicare il prossimo Prima di giudicare il fare altrui It's particularly crucial to question ourselves first Before judging somebody else Before judging what somebody else is doing My modest opinion E questa ovviamente è la mia modesta opinione Cauti nella critica e gioiosi nella lode Be cautious in criticizing others And be happy in appreciating them I guess this could be a good translation of what I just said in Italian It's not exactly to the T But that's what it means And now, throwing modesty out of the window Just in case you haven't read many books about the subject Once that you've read a fraction of the books About vibrations and energy and the power of the universe Then we could have a more educated discussion about the subject E quindi ora, gettando la modestia fuori dalla finestra Qualora tu non abbia letto molti libri Sull'argomento a cui ti sei preso il tempo di lasciare un commento Una volta che magari hai letto più libri A proposito dell'argomento Della... Dell'energia Delle vibrazioni Di quel che costituisce l'universo Allora, a quel punto magari potremmo avere Magari tramite anche una diretta Fare una conversazione un attimino più educata A proposito dell'argomento Because it is challenging to argue about a subject That most people, in my modest experience In my humble experience Don't have much knowledge about Much awareness Much consciousness about Meaning We live in a universe of sound and vibration At least this is a conclusion that Einstein got to But most of us ignore this And we are much more physical Than we could be To actually affect To actually impact our reality Sì, perché è difficile, no? Alle volte Relazionarsi Condividere Conoscenze Di cui La maggior parte delle persone Perlomeno la maggior parte delle persone Con le quali tendo a relazionarmi io Ignorano Con rispetto parlando Non si ha La Consapevolezza Non si ha La conoscenza Di vivere In un universo Dettato Da suono E vibrazioni Suono E vibrazioni Questa è una conclusione A cui è arrivato Einstein Quindi vuol dire Non è nemmeno L'ultimo scappato di casa Eppure non abbiamo Tanti di noi Non hanno La conoscenza Non hanno La consapevolezza Che Questa è la realtà Dei fatti E quindi si tende A focalizzarci Eccessivamente Sul materiale Su il fare Quando invece Se avessimo La conoscenza Il sapere Dalla nostra Come si spiega In tanti di questi libri Che Si potrebbe Avere un effetto Maggiore Sulla creazione Della nostra realtà Attraverso Le vibrazioni Che emaniamo Beh a quel punto Si potrebbe appunto Fare molto meglio Molto di più A partire da questo Tipo di interazioni Now before moving on And wrap up This vlog entry I want to share In this video The brief clip That Alessandro Commented For the italian listener So that they can Better understand What his comment Was too Adesso Prima di Di proseguire Verso la conclusione Di questa Di questo ingresso Odierno Del vlog Voglio riportare Lo short Commentato da Alessandro Affinché si possa Meglio capire A cosa era riferito Il suo commento Ed eventualmente Anche per poi Continuare la conversazione A proposito di questo punto Se ci si relaziona Con un qualcosa Pur consapevolmente Parlandone in maniera positiva Ma all'interno di noi Si nutre Un risentimento Vibrazionale Emotivo Allora stiamo Verbalizzando Positivamente Ma vibrando Negativamente E attrarre la nostra realtà Sono le vibrazioni Che emaniamo E nel parlare di questo Mi rievoco Soggetti In cui compio Lo stesso Errore E quindi La differenza Tra queste due cose Raggiungere la consapevolezza Di questo errore Cioè della verbalizzazione positiva Ma della vibrazione negativa Ci porta a capire La grande differenza Che c'è Perché quando Vibriamo Ci sentiamo La sensazione Il feeling È ciò che attrae E quando ci sentiamo bene Attraiamo Quel qualcosa Quando invece Ci sentiamo Meno che bene A quel punto Allontaniamo da noi L'attrazione Di ciò che desideriamo Briefly For those of you Who might have Not understood The Italian I was just Making the point That When we Speak About Something That we want To believe in That we want To materialize That we want To attract But We are not Vibrationally In alignment From within With that Subject Of our desire We won't be Attracting it As We would like To Qui ho semplicemente Tradotto Quello che ho Spiegato In questo Breve short These Are concepts That I mainly Learned By reading Yeah Let's go through Some of these books But mainly This concept I learned it From the book The power Of your subconscious mind Right here By Joseph Murphy The power Of your subconscious mind Il concetto Di cui parlo Nello short L'ho estrapolato Soprattutto È contenuto Ovviamente In svariati Di questi libri Ma io L'ho preso meglio Leggendo il potere Del subconscio Di Joseph Murphy Di cui Ho già parlato Proprio Il fatto che Lui lo chiama appunto Il subconscio Questo potere Con cui noi Ci relazioniamo Con l'universo In the book He labels The God power Within us Subconscious Subconscious And he explains That we can condition Our conscious mind By repetition But unless We Believe What We want to materialize The reality That we want to create Within our subconscious We'll have Difficulty In manifesting In creating That reality In allowing That reality Quindi In questo libro Dottor Joseph Murphy Spiega Che Possiamo Cercare di condizionare La nostra mente Conscia Attraverso Il martellamento Di affermazioni Ma fino a quando Per condizionare La nostra mente Subconscia Ma fino a quando Il subconscio Non sarà Ma fino a quando Quella credenza Non sarà Per Come si dice Per Permeata Per impermeabile Quindi permeata Penso Non lo so In difficoltà con l'inglese Ci si confonde Insomma Fino a quando Questa credenza Che martelliamo Nella nostra mente Conscia Non farà breccia Nella nostra mente Subconscia Sarà difficile Poi materializzare Quella realtà Che desideriamo Ma sono tantissimi I libri Che in maniera Diretta O indiretta Fanno riferimento A queste conoscenze There are A bunch Of books That directly Or indirectly Are Relating To this Knowledge That's What I really Want to share Through the content That we Create On the channel Ed è proprio Questo tipo Di conoscenze Che ho La passione Il desiderio Di poter Condividere Attraverso Il contenuto Che creiamo Su questo Canale Quindi Grazie mille Alessandro Per il tuo Spunto So thank you Very much Alessandro For this Input That you Gave us Through your Comment Because we Don't Grow Through We don't Because we Need Contrast To grow Perché abbiamo Bisogno Di Contrasti Per poter Crescere E migliorarci Guai Se fossimo Sempre Tutti D'accordo If we Were All on The Same Page And we All Had The Same Knowledge Base And Belives We Wouldn't Grow We need To This Kind Of Not Confrontation But we Need To Expand Our Views So thank You Very Much Quickly Growing Quickly Going It's a Challenge To speak Both Languages It might Sound Simple But It Is I Invite You To Try Non è Sembile Parlare Le Due Lingue Così In Un Video Quasi Di Getto Senza Scaletta Non Dico Indiretta Ma Quasi So Quickly Going Through Some Of These Books And These Are Not All The Books That I Have In The House About The Subject That I Read Or That I Have To Read Because I Still Have A Bunch Of Books That I Haven't Even Touched But I Just Wanted To Show You A Few So Are So At the bottom Of This One There Is A Nice Book From Deepak Chopra Ageless Body Timeless Mind You Can't Really See It It's Right Here At The Bottom And Yes I'm Reading Another One By Deepak Chopra Behind The Air Reinventing The Body And Awakening The Soul Very Powerful Content Chopra Is Really Awesome He Creates A Bunch Of Content With A Base Of Medical With A Medical Base You Know He Backs Up His Facts With Studies And This Book Mainly Is About Energy And Consciousness And He Talks About DNA Quindi Partendo Da La Parte Basta No Questo È Ageless Body Timeless Mind Che Sarebbe Corpo Senza Età Mente Senza Tempo Di Deepak Chopra Come Quest'altro Libro Di cui Ho Parlato In Altri Vlog Recenti Reinventare Il Corpo E Risvegliare L'anima In Questo Libro Parla Di Energia E Consapevolezza E Fa Riferimento In Tutti I Suoi Libri Perché Lui È Condottore Ha Una Base Di Studi Medici Cioè La Fisica Quantistica È Basata Su Studi Reali E Bene In Questo Libro Parla Addirittura Del DNA Ma Questo È Un Altro Bel Libro Che Ho Iniziato Da Poco Mia Moglia L'ha Già Letto Tutto This Is Another Good Book That My Wife Already Read And I Recently Started Change Your Brain Change Your Life Cambia Il Tuo Cervello E Cambia La Tua Vita This Book Was My Wife Already Read It I Haven't Yet I Just Started It It Very Medical It's Very Dry È Molto Asciutto Per Per Dottori Diciamo Infatti Questo libro È Stato Suggerito A Noi A Mia Moglie E Me Da Una Familiare Una Cugina Di Mia Moglie Che È Dottoressa In 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 The Beginning Of The Book The Author Writes That It Is Strange That Brain Doctors I Don't Know How You Label Them In English Are The Only Doctors The Only Field That Doesn't Take Images Of The Of The Organ That They Are Treating And In Fact He Developed Of Course A Way To Do It So I Haven't Read It In A Few Weeks So But He Developed Images So That It Shows You In The Book How The Brain Actually Changes Based On How You Are Nourishing It And You Are Feeding It With Books With Knowledge With Experiences Quindi nel libro spiega che è quasi ridicolo dice lui che viviamo in un mondo in cui i dottori che si fanno carico della cura del nostro cervello sono l'unico field l'unico reparto della medicina che non ha immagini per trattare il cervello Cioè lui ha sviluppato un macchinario l'autore di questo libro e ne parla con delle immagini fa vedere come il cervello cambia forma come le aree si riempiano e cambiano di colore in funzione di come stimoliamo il nostro cervello delle attività che svolgiamo i libri e così è fantastica è fantastica io non ho ancora letto tutto però è davvero interessante poi continuando su questa pila cosa abbiamo vediamo se riesco a vederlo the secret ne abbiamo parlato c'è una raccolta all'interno del nostro canale The secret we have a playlist on the channel the same with the key and the wisdom of the Tao Te Ching the Tao Te Ching already twice it's a very easy simple book right here Tao Te Ching like thousands of years of wisdom in this little book Cioè per esempio continuando con la pila qua il Tao Te Ching no è straordinario un libro semplicissimo piccolissimo diciamo ma potentissimo migliaia di anni di conoscenza in questo libro Alessandro ti consiglio di leggerlo The power of now Il potere dell'adesso ne abbiamo già parlato una marea di volte Breaking the habit of being yourself Dr. Giudy Spenza in this book and then I get confused because I don't know if I've been speaking Italian or English but these two books are awesome they're at the very base of my personal development I'm a student of Abraham X but I couldn't appreciate Abraham X teachings until I came across Dr. Joe Dispenza because Joe Dispenza basically backs up with facts what others are explaining as something that a religious belief almost. Quindi questi due libri sono alla base diciamo di queste mie conoscenze Dr. Joe Dispenza ovviamente è un altro dottore e io sono un avido studente dei materiali di Abraham X però è un qualcosa che a cui si può credere magari come una credenza religiosa no la prendi perché ci vuoi credere invece Dr. Joe Dispenza attraverso i suoi studi a modo di offrire una struttura alle credenze condivise da Abraham per esempio attraverso studi medici fisici pratici cioè mi ha dato quel tassello che mi mancava per abbracciare completamente queste conoscenze. So the knowledge della scienza dell'arricchirsi che parla di tutto meno che di soldi perché l'arricchimento è anche inteso come arricchimento spirituale no la crescita personale ma tanti altri tanti altri Psycho-Cybernetics Alessandro I suggest you to read that book Alessandro ti suggerisco di leggere questo libro sì The Power of The Science of Getting Rich Nella scienza dell'arricchirsi I was saying that that book doesn't really talk about Molly he also talks about Molly but mainly talks about enriching ourself spiritually personally and so forth so it's becoming much longer this vlog than I was expecting so let's wrap it up sta diventando un vlog molto più lungo di quanto pensassi però mi entusiasma parlare di queste cose Alessandro scherzi a parte ti ringrazio veramente per il tuo commento spero di averti ispirato ad espandere le tue vedute spero di vedere presto un tuo commento in cui mi dici Elia ho letto alcuni dei libri che mi hai consigliato e continuo a pensare che siano tutte stupidaggini e a quel punto onore a te kudo e assolutamente benvenga che sia così non c'era cambiare idea c'è soltipicemente da espandere le nostre visioni Wrapping it up seriously Alessandro I thank you for your comment and your time and I do hope that in the future we'll have the chance to chat more about this subject and potentially one day you will have read a few of these books and you're gonna tell me that you read them all and you still believe that they make no sense in which case kudo to you I will respect your opinion much more and maybe you did read some of these books already e probabilmente magari hai anche letto alcuni di questi libri di già non lo so però è un piacere creare questo contenuto per entrare al di là di tutto in contatto con persone che la vedono anche in maniera diversa quindi grazie mille i just want to uh quindi al di là di i'm i'm getting my i tangle up my tongue in between the two languages i just want to remember everybody that we're going to have the first live event about personal development on the channel we're going to be talking about books the three books that impacted us and one of our guests maybe too the most we're going to do that and i will be able to add the link to it we're going to do that on let me see it's going to be monday 18th at 4 pm easter time quindi avremo la prima diretta sul canale inerente alla crescita personale condivideremo fra le altre cose i tre libri che ci hanno aiutato maggiormente ad aprire gli occhi su questo mondo fantastico ed infinito insieme a un'altra protagonista di questa diretta probabilmente due e lo faremo lunedì 18 monday 18th alle 21 ora italiana quindi vi invitiamo a partecipare attraverso i vostri commenti nella chat a questa diretta and as i always say come dico sempre in conclusione be better with books improve your thinking by reading to improve this video has been brought to you by us at real estate helpful solutions we buy houses helping people to find out more about how we can be of help text or call us at 727-366-6916 or send us an email at the email address you see in the photo che poi voi mi direte ma elia se non si impara attraverso le parole si impara attraverso l'esperienza e con i fatti perché consigli sempre di leggere di leggere di leggere è importante leggere per creare idee e poi la cosa fondamentale è applicare queste idee cioè agire compiendo azione ispirata e poi facendo azione ispirata andiamo a materializzare ad assodare ad assorbire ad assumere a fare nostre queste conoscenze che abbiamo preso attraverso le conoscenze che fino a quel punto tramite libri erano solo teoriche questo video è stato presentato da agriturismo colline di rossoli fai del tuo evento un evento speciale how do you translate all this? yeah most you might have heard me say that you don't learn by words we learn by experience we learn by doing that's actually Abraham X that suggests this this is a quote by Abraham X and why then do I suggest to be better with books to improve by reading because through books we expand our knowledge actually not our knowledge because our knowledge comes from our experience but we expand our views we gather ideas that then we transform into knowledge by acting upon those ideas by applying those suggestions and that is how we expand our knowledge through our experience anyhow I'll see you on the next one thank you for the time we dedicated to today's vlog grazie mille ragazzi per il tempo che avete dedicato anche a questo entrata a questo vlog se vi fa piacere condividete questo contenuto con chi pensate possa gradirlo iscrivetevi al canale se vi fa piacere and I'll see you on the next one e ci vediamo alla prossima if you like subscribe to the channel if you think this is valuable content I invite you to share it with as many people as you like thank you very much and I'll see you on the next one